La curva dei contagi da coronavirus continua a scendere, in Puglia come anche a Bitonto. In città, al numero pressoché stabile di positivi, si associa all'aumento dei guariti. Proprio questa mattina il sindaco Michele Baticchio ha infatti comunicato che il primo bitontino colpito da Covid-19 si è ripreso completamente. La bella notizia dona ancora più ottimismo alla comunità, che si prepara a vivere la cosiddetta fase 2. Da lunedì prossimo, con l'entrata in vigore del nuovo DPCM, potranno riaprire i battenti molte aziende. Saracines che è ancora chiusa è però per i negozi al dettaglio, la cui apertura è prevista per il 18 maggio. Parucchieri, estetisti e centri massaggi invece dovranno attendere probabilmente sino al primo giugno. Il premier Conte ha anche consentito il servizio d'asporto per bar, gelaterie, pasticcerie, ristoranti, pizzerie e pub, costretti sinora ad effettuare i solo consegni a domicilio. La facoltà, concessa dal 4 maggio, è stata però anticipata al 29 aprile grazie a un'ordinanza della Regione Puglia. Dalla stessa data via libera anche alla toilettatura degli animali di compagnia, alla pesca amatoriale, alla manutenzione e riparazione delle imbarcazioni da diporto e all'accesso ai cimiteri. A Bitonto e nelle frazioni però la possibilità di commemorare i propri defunti è stata slittata lunedì per consentire l'organizzazione delle forze dell'ordine che dovranno regolamentare gli accessi. A discrezione dei comuni è anche la riapertura dei parchi. Si attendono ufficialità su quanto stabilito dall'amministrazione a Baticchio, ma con ogni probabilità la risposta sarà negativa. Ancora chiusa quindi la villa comunale per scongiurare i rischi assembramenti. Nonostante l'annuncio in diretta a Facebook invece non sarebbero limitati gli spazi per svolgere attività motori e fisica, ora permesse dal decreto presidenziale. Certa invece è la chiusura al traffico di via Miraglio Vacca, nel tratto tra via Mazzini e piazza Canonico della Noce, della porzione di via Mateotti, compresa tra via Bovio e via Logroscino e via Repubblica, da via Verdi sino a via Giuseppe Garibaldi. Il divieto sarà in vigore dal 4 al 17 maggio, dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Saranno comunque garantiti gli attraversamenti tra via Bovio e via Manzoni, via Martucci-Zecca e via Cioffrese e via Laudisi e via Anita Garibaldi. Corro di polemiche sulla limitazione che, secondo il sindaco a Baticchio, permetterà ai pedoni, in attesa al di fuori degli esercizi commerciali, di poter occupare anche la careggiata per rispettare il distanziamento sociale. Una delle grandi concessioni introdotte dal 4 maggio, grazie al DPCM, è poi la possibilità di far visita ai propri congiunti, pur rimanendo a distanza di sicurezza e con indosso mascherine protettive. I familiari bloccati in altre regioni, inoltre, potranno far ritorno a casa, ma secondo quanto stabilito dalla regione Puglia, avranno l'obbligo di comunicare il loro rientro al medico curante e di restare in isolamento a casa per 14 giorni. Grazie a tutti.